Musica Salve a tutti sono Danogamer e benvenuti su The Wardrobe Punta e clicca di origine completamente italiana In cui vestiremo i panni, beh più o meno diciamo perché si avremmo questo scheletro qua su Di Skinny, un ragazzo che è morto a causa di un avvelenamento improvviso E che è costretto praticamente a vivere nell'armadio del suo amico Ronald Eh si è una cosa strana ma funziona così E il bello è che Skinny ha continuato a proteggerlo nonostante siano passati già cinque anni Il problema è che Ronald ha un grosso segreto e la sua anima rischia la danazione se questo segreto non verrà a galla Che dite? Cominciamo l'avventura? Buona visione Questa è la storia di due giovani ragazzi Con quale voce me lo dici? Legati nell'amicizia e nel destino Oh che cosa dolce Ronald e Skinny come accadeva spesso erano usciti per fare un picnic e trascorrere la giornata nelle campagne Quando mai i giovani vanno a fare picnic nelle campagne? Ma vabbè Oh oh Aia Non è una prugna vero? E invece no Oh 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 Nooo ma povero Skinny Non rida avanti su Da notare come lo slow motion rende tutto più bello Sì in effetti complimentoni Lo slow motion rende veramente tante tante cose più epiche Il cavale del ragazzo rimase per ore abbracciato ai fili d'erba Wow Quando ad un tratto accatte qualcosa Ovvero Porco cane Una nuova canella di vita venne instillata nel corpo di Skinny Ormai è tutto un scheletro Che brutta reincarnazione No Uno scheletro nell'armadio Perché vegliasse su di lui per il resto dei suoi giorni Eh che cazzo O almeno fino ad oggi Giorno in cui hai inizio la nostra storia No scusa sei letteralmente uno scheletro in un armadio Davvero? Buongiorno Buonsalve Cioè lei mi è rimasto tutto il tempo lì dentro Tutto bene salve Ben svegliato Oh l'animale parla Ciao noce Perdonami ma non sono riuscito a dormire Perché l'ho svegliato lo parla Sei veramente sicuro di volergli parlare? Ah Ronald No altra scelta Secondo me gli verrà un infarto E finirete entrambi a farvi compagnia nell'armadio Spero proprio di no Ah no la coppia gay e scheletro no E ok l'avventura è cominciata in maniera alquanto bizzarra Ma soprattutto non so perché lo scogliato lo parli Ah hai visto Ronald? Sei dove è finito Ronald? Sono usciti tutti da almeno un paio d'ore Ma non so dove sono andati Erano tutti molto agitati Ma non ho ben capito di che si trattasse Sarà la solita svendita al centro commerciale Eh ovvio ovvio Ma scusa com'è che non ti hanno si sono mai accorti? Questi sono gli occhiali di Sam Fisher di Splinter Cell Lo scudo di Capitano America? C'è il singolo bollo della merda sul Macintosh? Perché? Sicuramente anche Cioè ci sono riferimenti da tutte e tutte le parti Porca di quella porca Ah c'è cosa c'è cosa del film Non mi ricordo come si chiama Ma ho capito qual è il perché Non mi ricordo mai i nomi Quando smetterai di mangiare quella roba? E che mangia erba? Vuoi favorire per caso? È morto Quante volte te lo devo dire che sono allergico alle prugne? Solo a vederle mi viene l'orticarica Eh zizio ti manca la pelle Piccolo dettaglio Tu non hai la pelle E in ogni caso Sono no Ah per lui tutto è prugne Eh effettivamente Magari voleva essere alternativo Ma anche no Sei proprio una causa persa Va morire da ridere Ok scappi in bagno Tutta questa agitazione mi ha allentato la vescica Ma dove sei uno scheletro? Non puoi farla pipì Non molto tempo dopo Cosa hai fatto in tutto quel tempo in bagno? Skinny Ah i fattoni Mi mangio questa camera Che bello Porta l'animaletto nel furgone Cosa è successo? Preparo gli scatoloni I ladri E non facciamo come l'ultima volta Che ti sei fatto investire Ma come? Maledetto fattone Ci sono I libri colorati nelle pareti Minchia Cosa ti sei calato fratello? Ripiazzano i libri colorati La ganza Sai cosa non piace a me? Dover lavorare gratis Per ripagare altri stupidi servizi da te Cosa avete combinato? Oh c'è la terchetta maria Sulla cosa del tipo È morbido come un marshmallow Ma che cazzo ti sei fumato? Mi piace Dovevo dare ascolto a papà Quando mi diceva di fare il fiorello No dovevi fare secondo me l'idraulico E piccolo dettaglio signor Mario Mezz'ora dopo Ancora in bagno quell'altro Buongiorno Mi ci voleva proprio una doccia Cos'è? Che? Ma? Ah hai fatto la doccia Aspetta Che succede? Ok Di che cavolo state parlando? Stanno traslocando E tu non ne sapevi niente? Ciccio mi viene all'armadio Che fai? Skinny? Non lo so Lo chiedi a me Scusa sei tu Chi è? Ah il programmatore Salve Non si preoccupi Non ci sono più i giocatori di una volta Ehi un po' di rispetto Vando alle ciance Sono qui Per spiegarti i comandi di gioco Vabbè è un punto e clicca Neanche a me guarda Non lo sto chiedendo a te skinny Lascia che sia il tuo giocatore Non mi interessa Non mi interessa Voglio andare avanti con l'avventura Sono un avventuriero navigato io Non mi interessa nessun aiuto Vabbè dai sentiamo le stronzate che dice Perfetto Iniziamo con i comandi Grazie No no Mi sono già pentito Mi sono già pentito Il destro E rilasciandolo su una delle icone disponibili Interagisci invece Con gli elementi del lucidale Ok ma basta Scusate tagliamo che è meglio La motosega tua madre Ah tasto destro abbiamo più funzioni Guarda Prendi Interagisci E che cazzo è? Vediamo un po' quello dell'ultima azione Di certo la fantasia non ti manca Oh ok Non essere così aggressivo Sta ancora in mente Non mi criticare Non si possa apprendere Bastardo Potremmo anche scegliere un'azione migliore Vaffanculo Adesso prova ad aprire la tracolla verde Ok quindi tasto destro È questo simbolo per interagire? Ce l'ho fatta Qualcosa all'interno della tracolla Prova a raccoglierlo Sì non trattarmi con la condisce detta Sembra un povero deficiente Ma qui dentro c'è dell'oro Uh vedi? Vedi che è andata bene? Ah no È solo della tristezza Farti ingannare dalle apparenze Ti sarà molto più utile Di quanto tu possa mai immaginare Ok Sembra tipo la voce di Madrina di Jean-Claude Jean-Claude Stai per vivere una grande Meravigliosa avventura Beh che altro Tenendo premuto il tasto centrale del mouse Visualizzando Oh ecco questo È molto utile Questo è molto utile Invece Scorrendo la rotellina Apri e chiudi l'invento Perfetto Ok grazie Siamo a posto Vada lei Mi ha già fatto perdere tempo Devo fare il video In effetti Hai ragione Skinny Hai ragione Ma sono impegnato Vada vada Guardi Salve è stato un piacere conoscerla Ok Quindi col tasto centrale Possiamo vedere tutte le interazioni varie Ehi aspetta Io ti ho già visto Su un anime mi pare Ah non mi ricordo di te C'è una motosega Chi è che c'ha il segnapunti in bagno Davvero possiamo giocare? No Skinny Skinny era per dire Skinny era per dire Ti cavi un occhio ragazzo Fai attenzione Oh troppo tardi Che mira di merda Avrai capito che non sono proprio No Guarda tranquillo Come parziale giustificazione C'è da dire che non è facile Lanciare senza delle vere articolazioni Hai ragione Perché parla l'orso? Beh Perché parla l'orso? Devo ammettere che ha un pelo morbidissimo Sì ma parla Mai quanto il tuo incedere sulla mia schiena Scusi 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 Ma non può avere una schiena Lei è tipo un orso morto E scuaiato Ma vabbè non importa Paperella di gomma Espy cosa ci fai qui? Nemmeno io Nemmeno io Nemmeno io Lasciamo stare Espy Non voglio sapere perché Non voglio sapere perché Possiamo tipo prendere la motosega? Degiamo che non sono esattamente interessato all'articolo Ma perché? Portatela dietro Fa sempre comodo E soprattutto perché c'è una motosega in bagno Ma vabbè Ho capito che in bagno ci si fa anche le Ma vabbè non importa Vediamo quando era medito dei medicinali Se c'è qualcosa che possiamo prendere Che schifo Che schifo Toccalo Prendilo Non mi pare una buona idea Fidati fidati Non ci sono tipo 82,8 malattie Perché c'è un cavolo di cerotto qui Rat attack Rat jack Ah no Rat attack ho letto per un secondo Ah i cosi di raceretta di qualcuno Cotton fioc Pillole Ci facciamo di pillole Possiamo prenderle veramente? Che culo Ducca Ok mi sento un uomo soddisfatto No Le manine quelle che si appiccicavano All'elementare Storia vera Mi è finita sul soffitto della classe Mi hanno mandato dalla preside Ma porca di quella porca È stato un incidente Mi è scivolata Premi perché? Ah beh Come si chiama quel cavolo di dentifricio Quello a tre colori Ah mi sfuggo con i nomi oggi Che ci fa? Scusate il radar di Dragon Ball Prendilo che le sette sfere Ti farebbero comodo Per essere riportato in vita ciccio E pillole così ad cazzo E direi che abbiamo preso tutto Ok Questo gioco è già stra No vabbè Il portacarte igienica Ricavato dallo skateboard Vince tutto Vediamo un attimino Qua c'è oltre la finestra Prevedo guai Ahia Sì in effetti C'è proprio il furgone Della ditta di trasloco Quello deve essere Il furgone Della ditta di trasloco Eh già Devo assolutamente trovare Il modo di entrarci Prima che finiscano Ma come facevi a non saperne nulla ciccio Scusa eh Spettegola Spettegolare dei vicini I Murray sono persone Di una simpatia davvero unica Oh ok Da piccoli io e Ronald Giocavamo spesso con Cooper Ma dopo il divorzio Lui è andato a vivere con la madre Guardi che non è Wisteria Lail Mi sembra di essere Su Desperate Housewife Ma vabbè Una delle innumerevoli case Della famiglia Wayne Che Wayne? Mr. Wayne non è visto Granché bene qui in città Non è Bruce Wayne vero? È Bruce Wayne ciccio? No perché c'è un cavolo di coso Di fenicottero Non vedo più pisterelli in giro Il simbolo della pace Sullo scarico Già dice tutto Dovremmo aver preso Le peggio cose Abbiamo interagito Con buona parte Degli oggetti Vediamo se riusciamo a uscire Dal bagno a questo punto Ok bravo Skinny Dov'è finito il mio armadio? Oh oh Non posso allontanarmi dal mio armadio Orcocane È una questione di vita o di morte È vero è vero Lui è stato rincarato nell'armadio Insomma Hai capito Ah vita o morte Ah 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 Troppo tardi Skinny E Aspetta Sto Sto tizio ti ci assomiglia molto E questa sembra tipo una prugna De che chi se l'hai De che chi se l'hai Lo sapevo io Che la torta era una menzogna Non è vero mai Fidati Skinny La torta alla fine è la verità Ah Sigmund Freud Cioè Cos'è sta roba? Un disastro che combinai diversi anni fa Con della confettura Non ho mai capito come facessero i genitori di Ronald A dire che fosse il volto di Sigmund Freud Eh Eh Boh Probabilmente erano loro che avevano bisogno del signor Freud Possiamo prenderci il pomello Ci prendiamo il pomello Prendiamoci il pomello Perché noi Dopo tutti questi anni passati nella camera Perché non lo prendi Cavolo che figuraccia Sì 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 ciccio Ho capito che già sei morto Ti mancano le articolazioni Ma direi anche i muscoli E il trapano però Ce lo possiamo portare via Arraffa il trapano ciccio Perfetto Quindi fammi riusci Oh questo è il tuo inventario Abbiamo della pirite Un trapano e delle pillole Eh Pratico Ok Possiamo veramente giocare con la confettura Ti sembra questo il momento adatto per mettersi a giocare Ma io sto giocando Io sto giocando ciccio Ok ok Vediamo di salire assolutamente su quel cavolo di veicolo Quindi praticamente hanno disfatto tutta la casa Un creeper C'è un cavolo di creeper Perché Slendy Slendy che ci fai qua Slendy Prendi Slenderman Dobbiamo portarlo via con noi Non posso e soprattutto Ma no Ma Slendy amorevole Dopo un po' che lo conosci No Ma se non lo sai Ci siamo già giocati Quattro parenti E sei delle sette vite del gatto Oh Quella bestiola Non si avvicina al salotto Nemmeno sotto tortura Ok 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 Lasciamo stare il signor Slenderman A questo punto Non so perché c'è il quadro Di un signore Che bacia un cane O una lontra Ma lasciamo stare Qui vedo Ariel Ah Aspè Ma come fai a essere ritratto in un quadro Non dovrebbero sapere di te Che bella nonnina Parlami dalla nonna Ti prego Voglio sapere tutto della nonna Ricordo ancora il giorno In cui non mi accorsi di lei E mi ride Oh oh Benissimo Per futuro che c'è Tipo le cataratte Ma come Ma perché Mostro di polvere Ma è veramente un mostro di polvere Buongiorno Salve Sì praticamente Non dimmi che il mostro di polvere parla E tu chi il diavolo sei Porco cazzo parla Scusi scusi Ma anche no Ce l'ha risato Che è il futuro conquistatore del mondo Anche tu ciccio Ok stanzito 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 Non offendere però Da dove sei saltato fuori Non salto Non ho le gambe Per modo di dire Cacciolatino Da dove sei spuntato Da sotto al parquet Sono rimasto bloccato lì Così a cazzo Finalmente sono libero Sì certo Ok la lascio lì Si diverta lei La tua nemesi Sarebbe lo Swiffer La tua nemesi Chi sarebbe Lo Swiffer Non conosco nessuno Lasciamo stare Lascia perdere Quello che ho detto anch'io Devo andare È stato un piacere Conoscerti Arrivederci Mi faccio sapere Quando vengo da presidente Degli Stati Uniti Insieme a Donald Trump O Donald Trumpoli La dentiera della nonna No la dentiera della nonna Cosa portiamo via Come si dice in questi casi Un domani potrebbe sempre Tornare utile Eh beh sì certo Proprio a te che sei Un attimino tanto tanto morto Prendiamo Ho rubato la dentiera della nonna Le ceneri della nonna Contiene le ceneri della nonna L'avevo intuito Ma non è che l'hai uccisa tipo tu Confesso di aver sempre avuto Questa curiosità Non ti portare via le ceneri della nonna Che fai? Che fai? Cosa hai preso? Un epilogo davvero inaspettato Cioè? Solo una piccola incursione Dica Oh ok Un'altra tardiva circostanza In cui dimostri La tua negligenza Non lo prende in giro Il programmatore Ha tanto da fare Cioè scusate Praticamente ho trovato Delle gomme da masticare Perché nelle ceneri della nonna C'erano le gomme da masticare Vabbè non lo voglio sapere Ok vediamo cosa c'è in tv Una rapina in banca Ah c'è qualcos'altro Erbe aromatiche Non mi sembra tanto Erbe aromatiche Queste Chissà perché Dice che donano un buon profumo A quanto pare la famiglia di tossicodipendenti Come no No il gioco quello dove devi mettere i piedi Le gambe e il codo Ma io sono dal tonico E quindi non posso farlo No non è vero Che sono praticamente imbranato E cosa vuoi fare? Come possiamo scendere? Gli buttiamo sotto Sleddy? Aspetta non abbiamo ancora interagito con lo scarico Vogliamo andare avanti per favore Ok Puoi interagirci in qualche modo? Non era quello che mi aspettavo Che fa? Ma non funzionano così i cessi? Dove è andato? Ma porca di quella porca Buongiorno Che ci fai? Au Buongiorno anche a lei Ma porco cane mi ha rovinato la telecamera Sai quanto costano stai qua ciccio? Chi me le ripaga adesso? Perché siamo di nuovo qui? Ma che fa? No 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 faccio follie Guarda che era aperto imbecille Ma no ciccio Sei fortissimo Bravo Ma adesso sbrighiamoci È ora di parlare Ho fame anch'io Mi piace mangiare E ora muoviti su Che banda di rincoglioniti Buongiorno Che giornata di merda Che botta Eh vabbè Tanto senti dolore Allora Domanda piccola curiosità Primo Chi sono i signori lassù Che questa partita Mi sa che sta andando avanti Da parecchio tempo Secondo Perché c'è un topo appeso così Ah no aspetta Sono i cosi Come cavolo si chiamano Quelli si appendono per la coda È vero? Oh mio dio Vedo una marea di riferimenti Questi dove Su che gioco c'erano? No ci sono troppi riferimenti Non me li ricordo tutti Ho fatto troppi videogiochi Nella mia vita Eh beh sì certo Con le lasagne Prendiamo i topi Ah madonna Una calamita gigante Che ci fa la calamita qua Direi che si commenta da sola Eh la vogliamo prendere ciccio Prendiamo la calamita Togliamoci dagli impicci E facciamo finta Che sia solo parte dello scenario Ma perché io voglio prendere la calamita Ancora una volta La fisica mia è avversa Ah non riesci a tirarla Perché si troppo Perché c'è un parchimetro Qua sotto Scusate Sì ma non nelle fogne Boom salve Ma c'è di tutto qui Per farlo avrei bisogno Di un piede di porco Di un buona Ma guarda che nessuno ti denunzia Possiamo anche prendere Due dindini dal parchimetro Dove diavolo siamo Cos'è Oh il cocodino delle fogne Allora non era una leggenda Salve Buongiorno Vengo a parlare con lei Che cacchio Ah come culp Buongiorno Salve Ciao Mucchietto d'osso Oh parla anche Perfetto C'è stato il piercing sulla coda Ti prego non mangiarmi Ti prego non mangiarmi Pelle e ossa come sei Non andresti No pelle non c'è Non c'è neanche proprio per niente Ehi scusami tanto Se ci tengo alla linea Ma non è vero mai Non hai una bella Non l'offenda anche lei Ho un dolore insopportabile Anche io ho stato dal dentista ciccio Deve esserci finito qualcosa dentro Ci daresti un'occhiata Ho paura Ho paura Ok Va bene In effetti Ma non credo che riuscirei a toglierla Perché no Mi sembri proprio un tipo a posto sai Veramente sono appena evaso In carcere di massima sicurezza Per reti Ce ne sono davvero Ero finito dentro dopo aver scruzzato Con una lisca di pesce I miei vicini Oh Che bella cosa Facevano troppo rumore Non riuscivo a Mi sembra un valido motivo Prometto che non farò mai nulla Per farvi arrabbiare Guarda che ti sto prendendo in giro Ma come Non mi sfotta Non sei affatto divertente Per niente Per niente Ci si vede in giro Ciao ciao È stato un piacere conoscerti All to another universe Era su Life is Strange Che c'era sempre sto cavolo di buca Per un altro universo Una gondola qua sotto Beh sì perché siamo praticamente Molti italiani Beh la lenza ce la possiamo anche prendere ciccio E la lenza l'abbiamo ritrovata Ciccio abbiamo un bel po' di oggetti qua Mi domando come riusciremo a usarli tutti Scusi esimio ma lei mi fa furti Che vedo tante maschere da furto Ma vabbè di certo non gli sarebbe sulla faccia Eh uh una centralina Ci possiamo interagire in qualche modo Forse staccare dei carri elettrici Collegati all'alta tensione Ok 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 Grazie Ma ahimè Neppure la peggiore Ma perché mi insulti Mi dovrei supportare tutto il gioco Non nego che l'idea sarebbe divertente Ma non penso che in strada Coglierebbero l'umorismo Ah va bene va bene Ma porca di quella porca Guarda che bel rigagno lo che c'è qua È stato proprio come all'acqua park Solo con dei batteri diversi Tanto non puoi prendertene Che cavolo rompi le palle ciccio Attenzione ai mutanti Che cazzo di avviso è Tubi dovunque Una mazza da baseball con la faccia Muro Che potrebbe dirti il muro Sembra abbastanza mal ridotto E cosa vogliamo tipo buttarlo giù Era per dire Ho trovato Cazzo Ho trovato un bar dietro un muro Buongiorno Ah Un bar gestito da una mugna Il gufo di Harry Potter La gioconda Ma non eri su Kelvin Ah domani esce l'ultimo episodio a proposito Beh io il forziere lo apro Se mi fai la musichetta di The Legend of Zelda Mi cazzo No cos'è Buongiorno Cacchio non erco a cogliere tutti i riferimenti Ah Un T-Rex Sicuro che non sia la testa del cocodrillo fuori Il T-Rex cowboy Eh beh certo Il dominatore incontrastato Ma no Molto selvaggio west Ah ok Allora si Fino a fine del cretaceo Mi va bene allora Sarebbe stato interessante chiedergli Come facesse ad estrarre il revolver Non sfotta il poverino Perché c'aveva le braccine Eh scusi C'è la mummia un attimino agitata qui No non ne frega nessuno Fiammosidrica Una fiammosidrica la voglio Mio nonno lavorava in fabbrica Saldava le scocche Che bei lavori Ricordo che sul letto di morte ormai E la madonna Oh Non è finita bene mi sa Ma va Vabbè prendiamola Prendiamola ciccio Dai su Un po' pesante Non trovo Se rompi i coglioni Che sei Potremmo farci qualcosa C'è ancora del gas Semmai un giorno decide Si di ripercorrere le orme di mio nonno No 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 Sei già morto Sei già morto Perché c'è una cintura di castità Con una specie di uccello dentro E non in senso buono Quando si dice La speranza è l'ultima Che cacchio è Non saprai mai cosa nascondo sotto la felpa Ok Non voglio indagare lì sotto Vedo che c'è indagare qua sopra Mi basta ciccio Buongiorno barman Come va E poi ci lamentiamo della disoccupazione Effettivamente è proprio una vecchia mummia Ha ha Che sta comicità Mi piace da morire Bel posticino Non risponde Lei e Tutankhamon Eravate forse parenti Ma lei e Tutankhamon Mi sa che non risponderà mai Vero Ma risponde a un cazzo di niente No perché Noto una certa somiglianza Non sfottere Sei morto anche tu Secondo me mi aggredisce malo malo Eppure ci avrei giurato Sa Mi sa Non sfottiamo Ma lo sai che è proprio bravo ad ascoltare Ma lo sai che lei è proprio bravo ad ascoltare Ma dimmi te È il miglior barista della vita E chiedigli un drink Non c'è bisogno di fare il modesto Dai smettila di sfotterlo Ok ok Starei a chiacchierare con lei per ore Ma non voglio abusare oltre del Eh beh sì Perché tanto ne ha tantissimo Mio Dio Sto gioco è completamente folle X indica dove scavare Lo sai vero? A giudicare dalla polvere E dall'aspetto assoluto Molto giovanile Immagino abbia visto tempi meno Guarda se sei come Kelvin Di sicuro lo stai per cullare Ma guarda Chi se lo sarebbe mai aspettato Cosa Cristo ti servono tutti sti oggetti? No davvero? Eh purtroppo si esorisce il tempo Per il primo episodio di The Wardrobe Adesso non ci avete capito niente Bene meno io Ma come notate C'è la stessa follia di Kelvin e The Infamous Machine Forse anche un po' di più Quindi per questo primo episodio Di The Wardrobe è tutto Lasciate un bel mi piace Per continuare la serie Condividete i tuoi suoi video Per aiutare il canale a crescere E noi Ci vedremo nel prossimo episodio Tranquilli Non vi faccio aspettare troppo Non mi diventerete come la mummia qui Ciao 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 ciao